Ciao tenorini, bentornati da Tenore Informatico per questo video dedicato al sistema Microsoft di preciso per Windows 10 e 11 vi mostro dove è situata la cartella responsabile, quella cartella che si occupa di raccogliere tutti gli aggiornamenti scaricati. Andando ad eliminare questi aggiornamenti scaricati da non confondere con l'installazione degli aggiornamenti, si può così beneficiare di più spazio nella memoria e anche prestazioni migliori. Una volta che questi aggiornamenti scaricati vengono eliminati. Non perdiamo tempo e andiamo a vedere dove è situata questa cartella. Aprite una cartella qualunque e recatevi su questo pc. Da questo pc aprite disco locale C e Windows. Scorrete fino in fondo alla pagina e trovate la cartella software e distribuzione. Aprite la cartella ed ecco qua alla cartella download i nostri aggiornamenti scaricati. Si possono eliminare avendo più spazio in questo modo e anche prestazioni migliori. Eliminiamo questi aggiornamenti e poi eliminate gli aggiornamenti dal cistino. Cosa molto importante che questa procedura non incasina il vostro sistema perché si tratta soltanto di aggiornamenti scaricati e non installati come qui e scritto nella cartella. Bene cari iscritti spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate tanti like al video e iscrivetevi numerosi al canale di Tenore Informatico. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!